OPERA E quest'anno su Boomerang sarà una grande festa Con gli episodi natalizi dei tuoi cartoni preferiti E bellissimi film da guardare con tutta la famiglia Non c'erano abbastanza pagliacci in questo film? Boom Natale! In arrivo su Boomerang! Non andare via! Boomerang torna dopo una piccola pausa Presto! Ricominciano i tuoi cartoni preferiti Adesso ci sono i Baby Looney Tuts Su Boomerang! Diamo il via alle danze! Tra poco c'è My Little Pony, l'amicizia è magica Su Boomerang! Allora, ti va di giocare? No che non mi va di giocare! Sono crescuto io e i crescuti non giocano! Sorpreso? Per forza! Sono gli strabilianti e esilaranti episodi di The Looney Tuts Show! Dal lunedì al venerdì pomeriggio alle 2.20 alle 4.30 su Boomerang! Tra poco ci sono i Fuffi! Su Boomerang! Tra due simpatici gatti e tre scarabaggi rispettosi tutti insieme sotto lo stesso tetto Cosa potrà mai succedere? Occhi e i maledetti scarabaggi! Nuova serie! Dal lunedì al venerdì alle 7.15 di mattina e alle 7.15 di mattina su Boomerang! Adesso ci sono i Fuffi! Su Boomerang! Tra poco... No! Non vada fuori! Ti sono chi vesto! C'è The Looney Tuts Show su Boomerang! Adesso... No! Non vada fuori! Ti sono chi vesto! C'è The Looney Tuts Show su Boomerang! Ti sono chi vesto! 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 Grazie a tutti.